va a vedere questo bello green dog che fanno tutto il pelo agli animali andiamo sul ponticello vengo vengo vai è proprio pieno di giochi questo tokyo mitta guarda guarda là c'è il giardino che non abbiamo fatto prima per il vento quale strada qua c'è il terrazzo con i ristoranti e là c'è il palazzone questo è napoletico andiamo di la vai andiamo a vedere dove c'è questa mostra di design un ticello per girare intorno sopra la strada guarda quanta gente al museo di ando andiamo 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 corriamo di qua ora che c'è l'acqua qua qua c'è anche l'acqua guarda non posso toccare? è difficile toccare? come fai a toccare? difficile? eccolo lì il museo di ando e là c'è il tokyo mittaun attento è che cade giù è stasi andiamo giù a vedere d'un museo l'acqua guarda l'acqua guarda non è finito? non è finito l'acqua? dove doveva finire? dopo va di là nel laghetto di prima Sakura Sparkle Lounge ecco la fila con tutta la gente della mostra di design con il titolo A è spuntato un po' il sole fino al giro il sole del museo è chiamato questo triangolo che tocca fino a terra ok